bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e siamo tornati su un nuovo episodio di minecraft signori allora prima di partire col video vi ringrazio per i like per i commenti per i giudizi e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e ho bisogno del vostro supporto io siamo arrivati all'episodio 110 se non sbaglio ce la stiamo mettendo tutta ma senza il vostro impegno e il vostro e la vostra costanza non riusciamo a raggiungere questo obiettivo o la tartaruga finalmente si è lanciata a mare che cosa carina finalmente si è decisa di lanciarsi o forse quella che è cresciuta e quella ancora sulla sabbia si è quella ancora sulla sabbia mannaggia lei quindi signori mi raccomando una bella iscrizione un bel like e un commentino tecnico tattico anche critiche signori accetto tutto nessun problema anzi mi fa piacere mi fa piacere detto questo signori allora cosa facciamo il video di oggi nel video di oggi signori miei allora piccolo riassunto io sono andato un attimino in esplorazione prendere a cercare un poco di sabbia perché i villaggeri sono un poco bastardi per gli scambi dei materiali quindi andando in giro recuperato anche vari altri materiali che fondamentalmente non ci servono ho fatto dei razzi ma è stata la più grossa fesseria che potevamo fare e recuperiamo del della lava che abbiamo giù la farm regoliamo il secchiello così ne abbiamo due qui c'è un altro vuoto no andiamo a ricordare la lava e mettiamo a cuocere questo questa sabbia perché i nostri amici villager vogliono il vetro purtroppo con i razzi si bagga tantissimo signori quindi abbiamo un grosso problema di di bug purtroppo sì purtroppo sì come per esempio si è baggato anche in questo momento che lì dalla lava doveva sparire invece mi rimasta va bene va bene non è un problema l'importante che ho preso due secchiere di lava due secchiere di lava precisi per noi belli belli puliti puliti saliamo su torniamo a casa e in mezzogiorno mettiamo a cuocere la sabbia che ho recuperato e che con le quali poi faremo le listarelle di vetro questi i pannelli di vetro signori con le quali poi faremo i pannelli di vetro perché i villaggeri vogliono quelle non gli piace il vetro normale vogliono le listarelle di vetro allora noi abbiamo intanto delle torce che dobbiamo rimettere nella nostra bellissime maniche così perfetto dei razzi che non ci servono delle canne da zucchero che possiamo trasformare in carta che ho recuperato forse durante la spedizione sabbia che ovviamente vi ho tagliato signori delle ossa che non ci servono ad un piffero quindi le andiamo a mettere nella questa in questa cassetta di qua dove ci sono delle altre ossa questi pannelli di vetro ci servono per gli scambi abbiamo una carta abbiamo dei razzi che non ci servono a nulla va bene allora facciamo iniziamo con gli scambi noi intanto abbiamo due diamanti due smeraldi chiedo scusa due smeraldi il tizio ne vuole 13 se non ricordo male però abbiamo un futtio di carta come come si direbbe tranquillamente in siciliano signori abbiamo un futtio di carta tu che cazzarola vuoi tu non scambi niente non toccare quel pulsante perché ti ammazzo dove il nostro amico col che ci vede ok allora io ti do 62 di carta quanti smeraldi mi dai ma da di due porca miseria che siamo messi male signori due soli smeraldi ottimo siamo a 6 smeraldi riesco a prenderne un altro sì perfetto 7 smeraldi ok se noi stessi sono ande con sei pezzi di di carta bene male male no bene ce ne servono altri sei praticamente altri sei è fattibile ce la possiamo fare ce la possiamo fare con il vetro con il vetro ci possiamo riuscire secondo me col vetro secondo me qualcosa di buono possiamo riuscire a farla o mamma mia si si scambi rottura di scatole qui già ne abbiamo 10 di vetro buono 11 ok di quando possiamo regolare altri da meno altri 11 ok bella così 22 per un totale di pannelli 58 già non è male già 58 pannelli già e tanta roba riesce a darmene altri due perfetto metterli qua trasformiamoli pure il ce li portiamo dietro ok diciamo che riusciamo a fare qualche altro bello scambio andiamo andiamo signori andiamo andiamo ovviamente non partiremo oggi per la ricerca della della fortezza marina ci mancherebbe altro però intanto ci vediamo la mappa dopo di che ci prepariamo tutto l'ambaradan e domani signori andremo alla ricerca della fortezza marina ora zio non rompere le scatole dammi i diantozzi che mi servono se vuoi passa di livello fai quello che stracazzaro la vuoi ne abbiamo 12 ne abbiamo 12 ora lui farà tutte le sue bollicine carine coccolose si inventeranno i scambi magari può essere c'è qualche scambio più interessante aspettiamo che finisca la sua effervescenza che la smetta di diventare una qualcosa di effervescente allora mi fai lo sconto grande grande allora questa è la mappa la foresta l'avevamo due diamanti per un standard viola che non ci serve a nulla due diamanti per uno standard arancione che cazzo la rata fate gli standardi arancioni va bene e va bene lascia lascia per non ti non ti concentrare più non ti concentrare più perché sei inutile quando ti concentra in tutto questo ci mancano ci mancano ci mancano o solamente nuove bello amico mio grande signori svolta nella situazione forse riusciamo a prendere tutte e due le mappe devo fare i con la i compassi e le bussole devo fare le bussola prima che questo si 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 scorda che vuole fare gli scambi in orle di sono qui grande grande così allora per fare le bussola come cazzo si facevano chi se lo ricorda bussola perfetto la posso fare si bella così me ne fai due al volo perché secondo me riusciamo a prendere tutte e due le mappe e se riusciamo a prendere tutte le mappe io non è che sto contento di più signori di più sta polvere no non la posso lasciare qua perché poi la perdiamo però le bacche le bacche colorate le possiamo lasciarsi le bussola mettiamo qua perché ci servono ok con i diamantozzi perfetto qui mi ha dato altro vetro grande dio tutta la stima dai così dai così 15 28 28 cosa riusciamo a fare 28 4 sono volte 64 più 9 ok non ce ne servono 9 per uno scambio 9 per uno scambio e 10 per l'altro e 10 per l'altro per caso è cresciuto qualche altra canna da zucchero che magari così evitiamo di fare solamente uno scambio due soli che cazzo la cito fa 3 da 3 un altro pezzettino di carta ce l'abbiamo qui c'è la povertà più totale perfetto anche povertà più totale lo so signori che si trasformi villager in zombie mi fa mi facilitano gli scambi lo so perfettamente ma non non è fattivo il problema che vuole 20 quanto ne voleva 24 di di carta no non riusciamo 5 4 9 dai dai che riusciamo a trasformare questi altri in altri 16 pannelli penso che dovremmo riuscirci adesso dai vediamo 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 nel frattempo lui è passato un po di tempo dovrebbe un attimino vediamo se riusciamo a fare un ultimo scambio prima che andato a dormire già andato a dormire bastardo già andato a dormire vabbè allora andiamo a dormire pure noi approfittiamo ne approfittiamo così lui dormendo si sta resettando e domani ci dà gli smeraldi che ci servono signore domani ci dà gli smeraldi che ci servono dormi zio dai così come puoi dormire solo le notte quelli sono andati a dormire che cazzo la dici che posso dormire solo le notte se qui ecco ecco appunto mi sembrava stata l'altra seppure messa a piovere speriamo che con la dormita la pioggia passi subito sì che cosa carina visto deve essere sempre così quando piove uno si va a correre subito e le passa la pioggia abbiamo evitato il trauma della pioggia allora buongiorno siamo nuovamente qui chi è che si nascondeva qua dietro tu tu ti nascondi io ti cerco allora allora tu ne vuoi dieci per una mappa no 9 e 10 ok 9 ce l'abbiamo dai così siamo 7 8 9 e 10 signori puliti puliti perfetto così ci restano pure bella così a questo punto io ti do lo smeraldo e il compasso e mi dai la mappa degli oceani tantissima roba ti do lo smeraldo e il compasso e mi dai no 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 non hai capito zio voglio questa ok la mappa alla foresta ma per far la cagata più più grossa del mondo signori allora già nella spoilerata che potrò di scatole levati da qua perfetto ok allora signori vediamo un attimo la mappa dell'oceano ok non dovremmo essere tanto lontani dobbiamo andare verso sud sud ovest è giusto se non sono rincretinito io verso sud ovest di conseguenza dobbiamo andare perché ok di qua è ovest di qua sud quindi in questa direzione di qua dovremmo scendere quindi in teoria dobbiamo andare in questa direzione di qua per trovare il tempio sottomarino il pallino non è piccolissimo però è piccolo per trovare la magione siamo nella merda più totale la direzione è la stessa ma il pallino cosa è successo ah ho sbagliato ho sbagliato tasto signori dove va le coordinate la magione siamo lontanissimi praticamente la magione siamo lontanissimi e va bene va bene non è un problema signor intanto abbiamo ottenuto le mappe e questa è tantissima roba abbiamo finito completamente gli smeraldi bene siamo contenti anche di questo però ricordiamoci che abbiamo qua del vetro che sta cuocendo qui non possiamo mettere più niente qua c'è dello spazio cazzarola sì quindi mettiamo del vetro lo mettiamo qui la polvere della sparola dobbiamo portare sopra la carta la mettiamo di qui fermi tutti noi dobbiamo partire con la mappa delle oceane giusto sì di conseguenza questa la dobbiamo lasciata qualche parte dove la lasciamo la lasciamo qua per il momento ce l'ho una pelle di perfetto ci organizziamo signori ci organizziamo cornice perfetto staccala qui dai così stappamela qui e qui ci mettiamo quella della mappa dell'asperazione della magione signori che è il nostro secondo obiettivo il nostro primo obiettivo di oggi e di oggi di domani saranno alla ricerca di questa abbiamo i materiali giusti sì devo solamente posare questi tre la carne penso ci basti dobbiamo portarci dei secchielli di latte ricordatemelo dobbiamo portarci dei secchielli di latte e poi penso che abbiamo tutto le litre le lasceremo a casa perché ok sarà più veloce sarebbe più veloce andare con le litre ma si bagga non il computer tutto il mondo proprio la terra umana si bagga signori quindi non abbiamo che fare detto questo io vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suoi genti e per il supporto nel video di domani signori parteremo alla ricerca della fortezza sottomarina che così andiamo a recuperare i blocchi d'oro e le spugne abbiamo ammazzare i boss possiamo fare tante cose potremmo portarci anche l'ossidiana per avere un punto d'appoggio su quella zona non penso non penso però prendendo i materiali della mappa del 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 sottomarino potremmo fare l'altare per l'uovo secondo me ci sta un bel contrasto chiaro oscuro detto questo signori vi ringrazio per i like per i commenti per i suoi genti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao 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 ciao